Buonasera, Riviera Trasporti, salvata in corner dal tracollo grazie all'intervento della Fondazione Carige. È stato infatti ufficializzato, dopo anni di attesa, il finanziamento della Fondazione di oltre un milione di euro per il completamento del progetto dei bus ad idrogeno, pur con delle riduzioni. Sentiamo. La telenovela dei bus ad idrogeno della Riviera Trasporti d'Imperia, che rischiava di portare al tracollo la società di trasporto pubblico, sembra essere giunta a una svolta in qualche modo positiva. La Fondazione Carige ha infatti ufficializzato la disponibilità di un finanziamento di un milione e 500 mila euro per consentire a RT la costruzione della stazione di rifornimento in un terreno che la società aveva acquistato in Valle Armea. I cinque bus ad idrogeno acquistati nel 2013 sono infatti da sempre fermi in deposito, proprio per l'impossibilità di rifornirli e nel frattempo uno è già stato restituito alla ditta fornitrice. Il progetto iniziale prevedeva un investimento di oltre 10 milioni di euro, 3,5 dalla Fondazione Carige, 1,5 dal Comune di Sanremo e da Regione e il resto dall'Unione Europea. Però nel corso degli anni si sono tirati indietro prima il Comune di Sanremo e poi la Fondazione Carige, che ora ha invece deliberato il contributo in misura ridotta per evitare che la RT finisse al fallimento. Il che vuol dire che dei cinque bus ad idrogeno, se tutto andrà bene, ne circoleranno soltanto tre e un altro sarà presto restituito alla ditta fornitrice. Per completare il progetto in misura ridotta, la Regione stanzierà quasi 2 milioni di euro e il costo totale alla fine sarà di 7 milioni. In questo modo però la Riviera Trasporti non potrà contare su altro denaro dalla Regione per rinnovare il suo parco mezzi. Nuova bufera torna all'assessore regionale della Lega Nord Edoardo Rixi dopo il suo coinvolgimento nell'inchiesta sulle spese pazze. Ora l'opposizione contesta a Rixi l'assunzione in Regione di suo cognato. Pronta la replica dell'assessore. Sentiamo. E ancora polemica torna all'assessore regionale allo sviluppo economico Edoardo Rixi. Dopo il suo coinvolgimento nel processo per le spese pazze in Regione, ora Rixi è di nuovo sott'accusa per aver assunto nel suo staff suo cognato. Per il Movimento 5 Stelle diventa sempre più pressante la necessità di un allontanamento di Rixi dalla scena pubblica. Il Partito Democratico va oltre e si rivolge all'autorità nazionale anticorruzione per verificare la regolarità dell'assunzione di un parente da parte di un amministratore in una struttura pubblica. Secca la replica di Edoardo Rixi che accusa gli esponenti del PD, Raffaella Paita, Giovanni e Lunardon di aver fatto delle rispettive famiglie il serbatoio per ricoprire le più remunerative cariche della città di Genova con esiti manageriali disastrosi, come nel caso dell'Armella alla Fiera di Genova e Merlo al Porto della Lanterna. Quanto al 5 Stelle, per Rixi e Grillini hanno ormai scelto di allinearsi col PD in quanto privi di argomenti. La banca è il cliente di fronte alle nuove norme. Questo è il tema di un incontro organizzato da Banca Carigio e ospitato nella Camera di Commercio d'Imperia. Diversi dirigenti della banca hanno illustrato al pubblico le nuove normative in merito alle quali vi è molta disinformazione. Sentiamo. Il direttore di area ponente di Banca Carigio incontra, come già ha fatto in altre occasioni, la clientela sul territorio per spiegare queste nuove normative, le novità che riguardano un po' il sistema bancario in Italia. Ecco, una serie di incontri per dire che cosa? Sono incontri senza precedenti, sono incontri di informazione finanziaria ma soprattutto sono dei momenti di dialogo e di comunicazione fortemente evoluti da Carigio, dalla banca del territorio che desidera raccontare qualcosa agli imperiesi, ai savonesi, ai liguri. In questo contesto, io da Liguri sono fortemente orgoglioso di rappresentare la mia azienda, in un momento in cui andiamo a raccontare le evoluzioni normative, andiamo a raccontare anche all'interno di quello che è il panorama del credito italiano, il ruolo di Carigio, il recente passato di Carigio, un passato recente che parla di una riorganizzazione, di un efficientamento operativo patrimoniale. Parliamo anche degli obiettivi ambiziosi del nostro istituto, del mio istituto, obiettivi di riconquista e di riaffermazione sul territorio. C'è una consapevolezza forte, la consapevolezza è che il territorio rappresenta una ricchezza per Banca Carigio e Banca Carigio è una ricchezza per il territorio. Da questa consapevolezza caliamo a terra un programma ambizioso di rilancio del nostro istituto. Ecco, un programma ambizioso di rilancio che non può che passare anche per la tutela del patrimonio, per la tutela di quello che gli investitori, i correntisti mettono nella banca. Questo è il passaggio fondamentale, possiamo dire. Assolutamente sì. Viviamo in un contesto purtroppo di scarsa informazione. In questa giungla è difficile orientarsi. Banca Carigio da sempre è vicina al territorio, ai suoi clienti, agli utenti e desideriamo fare questi incontri proprio per andare a offrire un punto di vista squisitamente tecnico che possa servire da orientamento per il Ligure, per il nostro cliente, per le persone che sono interessate a questo genere di argomenti, per orientarsi all'interno di questa difficile situazione mediatica. Banca Carigio offre un punto di vista squisitamente tecnico su quelle che sono le norme, Bailin, le norme di ricomposizione delle eventuali casistiche di sesto bancario e offre un importante punto di vista su quelle che sono i suoi eccellenti recio patrimoniali di liquidità e mostra con forza il proprio volto di banca solida, di banca del territorio Il sequestro del peschereccio saremese mine nelle acque italiane da parte delle autorità francesi ha reso nota tutto il problema del confine marittimo tra Italia e Francia, ridisegnato nel 2015 con un accordo non ancora ratificato. Sulla vicenda è ora intervenuta al Parlamento europeo l'eurodeputata del PD, Renata Briano, che ha raccolto il sostegno di Lega Com. A termine di un lungo percorso iniziato nel 2006 il nuovo confine marittimo tra Italia e Francia è stato ridisegnato il 21 marzo 2015 con un accordo bilaterale tra i due paesi non ancora ratificato. La questione è stata al centro del recente sequestro da parte delle autorità francesi del peschereccio Sanremese-Mina e ora Renata Briano, eurodeputata del PD, ha portato la vicenda all'attenzione del Parlamento europeo, presentando un'interrogazione per sapere se l'accordo bilaterale, siglato nel 2015, rappresenta una violazione del diritto internazionale, tenuto conto soprattutto della contrazione delle capacità di pesca dei battelli italiani. L'iniziativa della Briano è stata accolta con soddisfazione da Lega Pesca, che ha anche evidenziato come al Ministero per gli Affari Esteri si è emersa la volontà di garantire ai pescatori di operare nell'area storica della pesca del gambero di Sanremo, almeno fino al 2022. Per la Lega Pesca si tratta di un punto di partenza, anche se non certo la soluzione del problema. Inoltre, la responsabile Ligure di Lega Pesca, Barbara Esposto, ha chiesto ai soci del Medac, il Consiglio del Mediterraneo, alla creazione di un gruppo di lavoro per sottoscrivere un accordo di cooperazione internazionale sullo sfruttamento condiviso delle risorse. Inoltre, è stato approvato alla Camera un ordine del giorno per modificare l'accordo con il quale sono stati ridisegnati i confini marittimi fra Italia e Francia. La provincia di Imperia è la provincia Ligure nella quale si registra l'aumento maggiore di scippi negli ultimi anni. Il dato emerge da un rapporto sulla sicurezza in Liguria presentato oggi a Genova in occasione del Tavolo della Legalità. Sentiamo. È una fotografia in chiaroscuro, quella che emerge dal nono rapporto sulla sicurezza urbana in Liguria realizzato dall'Università di Genova e presentato questa mattina al Teatro della Gioventù in apertura del primo tavolo della Legalità della Liguria, aperto dalle vicepresidenti e assessori regionali alla sicurezza Sonia Viale. In base al rapporto sicurezza dati 2014, il furto risulta la tipologia di reato più diffusa nelle sue diverse declinazioni, quali scippo, borseggio, furti in appartamento ed altri. Gli autori di questi reati e colti in fragranza dalle forze dell'ordine sono tra il 60 e il 65% di nazionalità straniera. Tra il 2013 e il 2014 l'aumento di scippi maggiori è del 40% e si registra in provincia d'Imperia. Nella città di Savone i furti si stabilizzano su circa 8.300 casi all'anno, senza una sostanziale variazione rispetto agli anni ultimi. A Genova se gli scippi diminuiscono del 25%, i borseggi continuano nella loro progressione. Nella provincia di Genova si stabilizzano gli scippi e aumentano del 10% i borseggi. Alla Spezia si gli scippi, che i borseggi aumentano del 50%. Per quanto riguarda i furti in abitazione aumentano del 25% ad Imperia, più 80% nella città di Savona, più 10% a Genova, dove si registra una media di 5.6 furti al giorno, mentre si abbattono del 90% le denunce alla Spezia. Dalle indagini investigative, in due casi su tre, le persone denunciate sono batterie di rapinatori stranieri, in prevalenza di nazionalità albanese e romena. Una 35enne di origine romena è stata arrestata dalla polizia di frontiera a 20 miglia a bordo di un treno proveniente dalla Francia. I poliziotti hanno infatti scoperto che su di lei pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel 2014 dal Tribunale di Genova per truffe e raggiri ai danni di anziani compiuti in diverse parti del nord Italia. La Corte d'Appello di Genova ha confermato oggi la soluzione per tutti gli imputati dell'operazione Maglio 3, già pronunciata in primo grado, perché il fatto non sussiste. Il processo di secondo grado era stato intentato nei confronti di 10 imputati di associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto ritenuti i verdici dell'Andrangheta in Liguria. L'operazione condotta da carabinieri e direzione distrettuale antimafia di Genova risale al 2011. Nel ponente vennero arrestati Fortunato Barilaro, Francesco Ciccio Barilaro, Michele Ciricosta, Benito Pepe di Bordighera, Giuseppe e Vincenzo Marcianò di Valleclosia e Vincenzo Moio, ex vice-sindaco di Ventimiglia. Il Tar della Liguria ha respinto, giudicandone inammissibile, il ricorso presentato dalla ditta Viri SRL che aveva chiesto di annullare il provvedimento con cui il Comune d'Imperia avviava un'indagine di mercato per individuare un nuovo operatore per affidare d'urgenza il servizio di raccolta e rifiuti a seguito della recessione dell'appalto con la Tradeco. La società che ha presentato il ricorso, secondo i giudici, non avrebbe comunque potuto partecipare alla selezione perché priva dei requisiti soggettivi, di qui l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Il Governo ha stoppato il piano casa di recente varato dalla giunta regionale predisposto dall'assessore regionale all'urbanistica Marco Scaiola. Alla regione sono arrivate in particolare contestazioni sulla possibilità di realizzare interventi in zone sottoposte a vincolo e in aree tutelate in violazione alle normative nazionali. Il Presidente Giovanni Totti e l'assessore Scaiola hanno accusato il Governo di centro-sinistra di frenare lo sviluppo e hanno ribadito la loro intenzione di proseguire nel cammino tracciato e di difendere i contenuti del piano casa. Scaiola ha inoltre annunciato ricorso al Consiglio di Stato contro lo stop del Governo. Duro attacco al Partito Democratico ed Imperia da parte del Consigliere Gianfranco Grosso di Imperia Bene Comune a seguito delle richieste che il PD ha avanzato al Sindaco Carlo Capacci. Grosso accude infatti il Partito Democratico di essersi improvvisamente svegliato nonostante faccia sempre parte della maggioranza che sostiene il Sindaco ed abbia suoi uomini in giunta e nei principali posti di potere. Disponente di opposizione evidenzia come molte delle richieste avanzate dal PD a Capacci siano legate a questioni affrontate proprio dagli assessori dello stesso PD. In pratica quindi, secondo Gianfranco Grosso, il PD ha scritto a se stesso ed ormai in Consiglio Comunale si è persa degnità e decenza. Le agevolazioni per l'accesso alla ZTL, la zona traffico limitato del Paragio ed Imperia annunciate dal Sindaco alcuni giorni fa sono state approvate ieri dalla Giunta. Con le integrazioni approvate sarà consentito il transito senza possibilità di sosta ai soli clienti dei pubblici esercizi presenti all'interno dello ZTL. Saranno i titolari delle attività a comunicare alla Polizia Municipale con un messaggio di posta elettronica entro alle 12 del giorno successivo le targa dei mezzi dei clienti. Non soltanto i fedeli che intendono partecipare alle funzioni religiose all'interno dello ZTL mezz'ora prima delle cerimonie e mezz'ora dopo, come sarà di volta in volta comunicato dall'autorità religiosa potranno transitare liberamente nella zona traffico limitato però senza sostare. E noi facciamo una breve pausa, ci sentiamo subito dopo. Domenica a partire dalle 15.30 ad Imperio a Oneglia si terrà il Giubileo delle Confraternite. Una precessione si sannoderà dalla chiesa dell'Annunziata in piazza Ulisse Calvio ad Oneglia fino alla collegiata di San Giovanni Battista dove il vescovo Monsignor Guglielmo Borghetti celebrerà la messa. Monsignor Borghetti ha illustrato ai nostri microfoni l'importanza della cerimonia. Domenica è un appuntamento importante, Imperio a Oneglia il Giubileo delle Confraternite, che cosa significa, come si svolgerà? È un'occasione significativa per una realtà molto presente nel territorio di Cesano, una realtà antica, una realtà che si radica nella pietà popolare che è quella delle Confraternite che tutti noi ben conosciamo, è offerta loro l'opportunità di vivere la grazia del Giubileo della Misericordia tutte insieme. Abbiamo scelto insieme ai vari collaboratori anche con l'intesa dei responsabili delle Confraternite di localizzare a Imperia questo evento importante giubilare per la nostra Diocesi. Tutti i confratelli che appartengono alle varie Confraternite sparse nel territorio della Diocesi converranno, almeno tutti quelli che potranno e vorranno, e avranno la possibilità proprio in quel giorno di ricevere in dono l'indulgenza annessa tipica di questo anno giubilare. E lo faranno nella collegiata di San Giovanni Battista in Imperia Oneglia, che per quel giorno, per tutto intera la giornata, sarà chiesa giubilare. Da oggi il Comune di Sanremo è proprietario al 100% del casino. Dal punto di vista economico non cambia nulla, visto che Palazzo Berlio deteneva il 99% delle azioni della casa da gioco e il restante 1% era di proprietà della provincia di Imperia. Per l'acquisto della quota della provincia il Comune di Sanremo ha speso soltanto 28,86 euro. La cessione da parte della provincia è stato infatti un atto dovuto in base alle nuove normative. In Liguria abbiamo già raggiunto oltre 1.200 presenze di presunti profughi e sedicenti richiedenti asilo e non possiamo più permetterci di accogliere altri disperati. Non possiamo che essere contrari alla decisione presa dal governo Renzi di incrementare di ulteriori 30.000 unità la gestione dell'accoglienza su scala nazionale. Circa 600 sono in Liguria, di cui 300 a Genova e 300 nelle altre province. Così interviene Alessandro Piana, capogruppo della Lega Nord di Regione Liguria, esprimendo contrarietà in merito all'accoglienza di ulteriori 600 profughi sul territorio Ligure. Piana si è detto preoccupato per la situazione già in atto a livello regionale ed in particolare nella zona di Ventimiglia. Alvie le indagini strutturali e non strutturali per gli edifici scolastici di Via Neghelli nella frazione di Moglio ad Alassio. Il Comune di Alassio è beneficiato di un contributo pubblico di circa 10.000 euro da parte del Ministero e della pubblica istruzione finalizzato a svolgere le indagini nelle strutture dei plessi scolastici. Ad ufficializzare la notizia è stato il Vice Sindaco e Assessore Monica Zioni ad aggiudicarsi i lavori. Di verifica è stata la ditta specializzata a tecno e indagini di Cormani in provincia di Milano. Bioresistenze, cittadini per il territorio, l'agricoltura responsabile. Il documento a film curato dalla Confederazione Italiana Agricoltori presentato durante l'Expo di Milano approda ad Albenga. Domani alle 17 nell'auditorium San Carlo di Albenga verrà proiettato il cortometraggio che tratta aspetti ambientali, tutela del territorio ma anche diritti e della legalità attraverso le attività agricole. Dopo la proiezione seguirà una tavola rotonda che interesserà il territorio locale alla quale parteciperanno il Presidente regionale CIA Aldo Alberto, il politico e ambientalista Domenico Finiguerra ed il Presidente nazionale CIA Dino Scanavino. Ed anche quest'anno l'Associazione Sgazzelline per Andrui di Pompeiano organizza con la collaborazione del Comune la festa di Carnevale a Pompeiano con la sfilata dei carri, balli, giochi e animazione per i più piccoli. L'appuntamento è per domenica 21 febbraio alle 14 e 30. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata la domenica successiva 28 febbraio. Ora vediamo come sempre gli appuntamenti di Riviera e Venti, i cantieri sull'autostrada dei Fiori e il quadrometeo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.